La ConfCommercio quindi non tutela soltanto le partite IVA, ha appena detto, ma il territorio per tutto quello che ha a che fare con il benessere a 360 gradi, partendo dagli ultimi. Sì, la ConfCommercio di Siracusa non è soltanto business, è anche solidarietà, nel senso che noi siamo convinti che un territorio cresce se tutte le attività sociali crescono insieme. Quindi le partite IVA ma anche le attività di solidarietà. Proprio per questo stamattina firmeremo insieme all'Unità Alzi un protocollo dove ci impegniamo a sostenere parte delle attività che la stessa Unità Alzi svolge sul territorio. Infatti nel caso in specie faremo una tombolata insieme, i cui premi saranno messi a disposizione dagli imprenditori di ConfCommercio, il cui ricavato poi sarà dato totalmente in beneficenza all'associazione che poi ne disporrà per le attività che fanno sul territorio. Prima iniziativa, poi una serie di altri passaggi nel corso del 2017. Sì, il 2017 per noi sarà contraddistinto proprio sulle attività solidaristiche. Il primo è proprio la tombolata che si svolge al Circolo Unione di Siracusa, ma poi sosterremo probabilmente anche i pellegrinaggi che l'Unità Alzi svolge nella città di Lourdes al San Dusepolcro. Un passaggio importante per voi che non soltanto però vi occupate di sostenere i pellegrinaggi a volte anche dal punto di vista economico, ma ha tenuto a puntualizzare, svolgete delle azioni costanti sul territorio anche di altro genere. Sì, delle azioni costanti, quotidiane, alcuni impegni quotidiani che abbiamo con alcune attività sempre a favore degli ultimi, a favore di persone anziane e persone disabili. Questo è lo scopo dell'associazione, un'associazione di volontariato che si muove sia per il progetto principale durante l'anno che è quello del pellegrinaggio al Lourdes, ma anche e soprattutto nel territorio, nel quotidiano, abbinando anche a momenti di semplice ricreazione, a momenti anche di incontro tra i nostri soci e tra le persone appunto che è anziane e disabili. Sì, nell'immediato avremo un incontro giorno 20 dicembre dove ci sarà l'ottava di Santa Lucia dove siamo stati invitati con la deputazione e ci sarà un momento in cui daremo omaggio alla Santa. E colgo l'occasione per invitare non solo i nostri soci unitalsi, ma tutte le persone disabili e le persone anziane che avessero voglia di poter dare da vicino un saluto alla Santa Patrona, di poter rivolgersi a noi in quell'occasione nel pomeriggio passando in santuario, quando la Santa appunto passerà in santuario. Come un'altra attività che faremo a breve sarà quella della cena di Natale con lo scambio di auguri dove ci vede impegnati tutta l'associazione insieme alle persone che seguiamo ormai da tanti anni. E in questo progetto insieme a ConfCommercio è grazie all'accompagnamento da tanti anni ormai del Circo L'Unione che ci mette a disposizione l'organizzazione di questa tombolata che consente di poter ricavare delle somme che ci aiutano in questo percorso comunque di solidarietà che vede dall'accompagnamento all'URD a tutte le varie attività che vengono fatte nel territorio. Grazie